Sassuolo Inter, amichevole, dove vederla in calcio d'inizio alle 17. Ultima amichevole sia per il Sassuolo sia per l'Inter prima della ripresa del campionato. Calcio d'inizio al Mappei Stadium oggi alle ore 17. È stato un dicembre dolce e amaro quello del Sassuolo, che ha vinto solamente uno dei tre test in programma. Il primo di Marbella contro il Marsiglia. Dopo il 3-2 sui francesi è arrivato il 2-1 incassato in rimonta dal PSV, illusorio vantaggio di Frattesi. Più il 2-1 di Empoli dello scorso venerdì. È imbattuta invece l'Inter, che a parte l'1-1 contro il Betis Siviglia ha saputo solo vincere. 6-1 ai Maltesi del Gzira United. 4-0 al Salisburgo e 2-0 alla regina dell'altro Inzaghi, Filippo. Sassuolo Inter sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport 1, numero, 201, e Sky Sport Calcio, numero, 202. In streaming la partita può essere vista tramite l'app Sky Go, commento testuale su www.gazzettaitaliano. Grazie. 5-2-0.